C'è stato un episodio assolutamente sfortunato perché il gol che abbiamo preso è stato un'autorete un episodio accidentale casuale che ha cambiato il volto del match e ne ha deciso un po' le sorti non si meritava di perdere, era una partita di grande equilibrio e purtroppo è capitato questo incidente qui abbiamo perso una gara in maniera meritata, questo dispiace perché noi il punto oggi si sarebbe meritato e comunque non è che il Pescara abbia meritato di vincere, loro hanno capitalizzato la fortuna, l'episodio fortunato e noi purtroppo abbiamo pagato quello sfortunato. Nel primo tempo meglio la sua squadra, nella ripresa forse il Pescara ha premuto di più al di là dell'episodio sfortunato dell'autorete del gol di Mancuso al novantesimo, è d'accordo? Il gol di Mancuso al novantesimo non c'era niente secondo me perché ormai noi eravamo avanti per cercare di raddrizzare la gara i primi 20 minuti abbiamo fatto noi, i primi 10 minuti, 7, 8, 10 minuti siamo partiti bene nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni, poi Pescara era anche normale che uscisse o che tentassi di fare qualcosa di più quello che aveva fatto fino allora perché comunque l'avevamo controllato molto bene noi però il gol è stato una casualità, è un incidente da parte nostra, un evento fortunato per loro. Presidente Sebastiani poco fa ai nostri microfoni però ha detto Vittoria Meritata riferimento alla palla gol di Marras nel primo tempo dove è stato bravissimo Piscitelli e poi l'occasionissima di Monachello che a porta vuota un secondo prima del gol l'aveva asciupata. Ascolta io non è che devo rispondere al Presidente Sebastiani, ognuno fa le sue considerazioni a partire che ha visto io potrei dire che anche noi abbiamo avuto delle occasioni su 0-0 perché finché a partire 0-0 chi fa gol poi capitalizza, fa in vantaggio e cambia il volto, poi ognuno ha le sue considerazioni a fare è giusto che le faccia, io mi faccio le mie. Senza voler gettare la croce addosso su Piscitelli questa sera anche in occasione dell'autorete di Baillet e c'è stata forse un'indecisione di questo portiere arrivato pochi giorni fa, poche ore fa è evidente che fare a meno di due portieri in una partita difficile come quella con il Pescara vi ha un po' creato qualche problema? Allora secondo me Piscitelli ha fatto una buona gara, poi sul gol bisogna rivederla perché il giocatore era sul corto che era a Mokulu, gli ha sfiorata la palla, ne ha alzato la traiettoria è caduta accidentalmente sul volto, sulla destra di Mbaie, credo che sia stata una situazione assolutamente accidentale quindi non va analizzato come errore perché lui secondo me ha fatto una buona gara e comunque non è che si ottiene molto piangendosi addosso, quindi si incassa la delusione, si incassa questa sconfitta si prepara alla prossima partita perché il campionato ci insegna che è ancora molto lungo e c'è tempo e modo per recuperare l'importante è che noi comunque abbiamo fatto una buona gara e non è una sconfitta che abbiamo meritato sul campo L'ultima da parte mia Castori dal punto di vista tattico, dicevo all'inizio Sabbione dietro ad Arrighini, cosa cercava con quella scelta? Intanto abbiamo giocato tra i cenocampisti perché secondo me il cenocampo del Pescara è molto forte e bisogna mettere pressione a Brugma e chiudere le traiettorie di passaggio per i due giocatori che poi si alternano come Memuscia e Meregoni o Macini nel secondo tempo, io ritengo il cenocampo del Pescara uno dei cenocampi migliori della categoria se non il migliore, quindi è normale che sono venuto qui giocando a parte avevo l'importunio di Pasciuta, lì ci volevo cercare di fuori detto quello ho pensato bene di giocare con tre cenocampisti per fare la parità numerica in mezzo al campo Lei diceva, situazione ovviamente, questa sconfitta, ovviamente la classifica è un po' precaria però dopo il suo arrivo il ruolino di marcia della sua squadra è notevolmente migliorato manca però questa vittoria in casa, nel prossimo turno giocherete con la Salernitana ovviamente i tifosi si aspettano il primo successo fra Lemur Amica e il Capassi Noi adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la partita, stiamo appena finita ne abbiamo finita quella del turno adesso e non siamo entrati ancora nell'ottica della prossima partita ogni sette giorni si volta pace nel calcio, si incassa la delusione di oggi speriamo di prepararci bene e incassare la prossima volta con una soddisfazione Grazie!